Sì, direi che sta andando per il meglio e spero di poter partecipare di nuovo alla finalissima. Cos'è che ti è piaciuto tanto lo scorso anno alla finale di Rimini e all'altro mondo studio? Cosa ti è rimasto impresso di questa esperienza? Un po' tutto, di più le emozioni perché è sempre un mondo che mi ha appassionato e ho sempre sognato il red carpet, la passerella, quindi le emozioni di stare con la passerella sicuramente. Sei qui all'Open Dinner a Sanremo, alla Morgana Bay, ogni ragazza della tua età vorrebbe essere in questo momento in questo posto? Sì, questo sì, è un'emozione unica stare anche qua e spero di poter fare tante conoscenze come ho fatto alla finale di Miss Principessa d'Europa. Buona serata a tutti, un bacione. Ciao.